Passato Pietracina, stiamo andando verso la zona Campità Lomatese un gruppo di piadimento Un gruppo di piadimento E questo siamo arrivati al terzo mondo Terzo mondo, ecco qua, non so che strada è San Mango No, qua, che zona è? E tra Pesco e San Marco San Marco, Pesco o San Marco? Va bene? A me fa giocare così Stavo giocare Questa strada è molto particolare Sapevi, negamo den bike La città è l'epoca La città è l'epoca